letra di paolo agli efesini capitolo 5 efesini capitolo 5 leggerò dal versetto 22 al 33 efesini 5 dal versetto 22 al 33 mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al signore il marito infatti è capo della moglie come anche cristo è capo della chiesa lui che è il salvatore del corpo ora come la chiesa sottomessa a cristo così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa mariti amate le vostre mogli come anche cristo amato la chiesa ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa senza macchia senza ruga o altri simili difetti ma santa irreprensibile allo stesso modo anche i mariti devono amare loro mogli come la loro propria persona chi ama sua moglie ama se stesso infatti nessuno odia la propria persona anzi la nutre e la cura teneramente come anche cristo fa per la chiesa poiché siamo membra del suo corpo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due diverranno una carne sola questo mistero è grande dico questo riguardo a cristo e alla chiesa ma d'altronde anche tra i voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito siamo giunti a questo brano che si focalizza sulla relazione matrimoniale abbiamo iniziato scorsa volta con i primi versetti parlando del ruolo della moglie un brano che in modo specifico istruisce le mogli e i mariti per quanto riguarda il rapporto matrimoniale ma è importante non dimenticare quello che c'è prima in questi versetti che abbiamo studiato soprattutto dal capitolo 4 fino al capitolo 5 versetto 21 paolo dopo aver parlato dell'opera salvifica nei primi tre capitoli ha istruito i credenti per quanto concerne la loro vita cristiana il loro cammino questo cammino nell'unità la vita di chiesa capitolo 4 nei primi 16 versetti questo cammino in santità dal versetto 17 al 32 questo cammino nell'amore al capitolo 5 primi 6 versetti il cammino nella luce dal versetto 7 al versetto 14 poi dal 15 al 21 il cammino nella saggezza questo cammino nella saggezza come abbiamo considerato che riguarda cose molto specifiche non riguarda semplicemente una conoscenza mentale intellettuale ma riguarda questa volontà abbiamo visto di esaminare il nostro comportamento per camminare nella saggezza è importante esaminarci per quanto concerne il cammino il comportamento non solo è fondamentale conoscere qual è la volontà del signore può sembrare ovvio per un credente ma non lo è il credente pur essendo in cristo potrebbe non conoscere la volontà del signore o non conoscere fedelmente la volontà del signore potrebbe non avere neanche il desiderio di conoscere la volontà del signore affinché ci sia un cammino saggio è fondamentale conoscere la volontà del signore non solo ha poi parlato di questa vita vissuta sotto la guida dello spirito santo vivere sotto il controllo dello spirito santo è solo così che possiamo camminare nella saggezza dopo questi versetti in cui paolo parla di cammino nella saggezza inizia a parlare della relazione matrimoniale è molto interessante perché significa che per avere una relazione matrimoniale fedele sana è importante la saggezza è importante esaminare il proprio comportamento costantemente è importante conoscere qual è la volontà del signore è importante vivere sotto la guida dello spirito santo non è sufficiente essere credenti non basta è fondamentale essere istruiti nello specifico per poter capire come vivere fedelmente una relazione matrimoniale è possibile solo quando conosciamo la volontà del signore viviamo sotto la guida dello spirito santo e ricordiamoci lo scopo della nostra vita è glorificare dio e lo scopo di una relazione matrimoniale quella di glorificare dio testimoniale del vangelo di cristo come potremmo essere fedeli testimoni del vangelo di cristo se non viviamo sotto la guida dello spirito santo come potremmo glorificare dio attraverso quello che è il rapporto matrimoniale se non c'è una vita vissuta sottomessa all'autorità della parola di dio senza la conoscenza della volontà del signore affinché ci sia una relazione matrimoniale fedele che glorifica dio è importante essere istruiti ed ecco perché siamo qui questa sera ed ecco perché paolo ha scritto questi versetti sospinto dallo spirito santo a dei credenti la relazione matrimoniale non è semplicemente la convivenza tra il marito e la moglie che vivono sotto lo stesso tetto non è una relazione che si basa su delle proprie idee o esperienze ma deve essere risultato dell'ubbidienza a ciò che dio ha ordinato e stabilito per quanto riguarda il ruolo della moglie e il ruolo del marito dio ha stabilito dei ruoli specifici affinché ci sia una relazione matrimoniale fedele che glorifica dio fratelli cari la mancanza di conoscenza di comprensione di questi ruoli di cui paolo parla in questi versetti ha un impatto molto negativo sul matrimonio e di conseguenza sulla chiesa perché la chiesa è composta prevalentemente da persone sposate è importante parlare di questi ruoli specifici che dio ha stabilito per il bene del matrimonio d'altronde chi ha creato la relazione matrimoniale dio e lui che sa come può funzionare una relazione matrimoniale quante volte sentiamo anche credenti dire io vivo il mio rapporto matrimoniale sopportando mio marito o mia moglie questa è la chiave falso falso semplicemente una convivenza sopportando accettando sopravvivendo no la relazione matrimoniale è possibile quando la moglie e il marito rispettano rispettano quello che dio ha stabilito riguarda i loro ruoli ora abbiamo parlato la scorsa volta del ruolo della moglie la sottomissione della moglie al marito questi versetti dal 22 al 23 al 24 molto chiari molto chiari che evidenziano come deve comportarsi la moglie verso il marito abbiamo considerato tre aspetti che vorrei riassumere prima di proseguire abbiamo parlato della natura della sottomissione e in cosa consiste questa sottomissione abbiamo visto che è un'azione volontaria da parte della moglie non è un'imposizione da parte del marito non significa essere inferiori non è l'annullamento della propria personalità o delle proprie idee convinzioni no è la volontà della moglie di sottomettersi è un'azione volontaria non solo a specifica sottomesse ai vostri mariti è una sottomissione specifica che riguarda il rapporto matrimoniale non sottomessa agli altri uomini una sottomissione unica al proprio marito e poi dice come al signore sottomessa volontariamente al proprio marito come al signore ovvero per amor di Dio per amor del signore è l'amore per il signore che deve motivare questa sottomissione ecco perché è importante il cammino spirituale una moglie che non cammina fedelmente in Cristo non avrà la volontà e il desiderio di sottomettersi al marito perché qui dice come al signore se Cristo non è al centro della sua vita come potrà e vorrà sottomettersi al marito questo comportamento che è un comportamento saggio come abbiamo visto ma non è sufficiente essere credenti importanti essere istruiti qui abbiamo compreso che la moglie è chiamata a sottomettersi al marito questa è un'esortazione abbiamo visto anche quella che è la ragione della sottomissione perché è questa sottomissione perché è inferiore? no perché dice l'apostolo Paolo il marito è capo della moglie perché il marito ha un ruolo che Dio ha stabilito di questo parleremo questa sera è capo della moglie e poi abbiamo considerato un terzo aspetto il modello di sottomissione in che senso sottomessa al marito potrebbe chiedere una moglie e cosa vuol dire concretamente? Paolo risponde come la chiesa è sottomessa a Cristo la sottomissione della chiesa a Cristo è l'esempio che la moglie deve seguire come la chiesa si sottomette alla guida di Cristo così la moglie si sottomette alla guida del marito non è la chiesa che guida Cristo e non è la moglie che guida il marito un ruolo molto importante affinché ci sia un matrimonio fedele affinché ci sia un matrimonio che è testimonianza di quello che Paolo scrive l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e due diverranno una carne sola quel ruolo per la moglie è fondamentale affinché ci sia una carne sola questo è il ruolo della moglie ma Paolo prosegue in questi versetti e ora parla del ruolo del marito e come avrete notato ci sono molti più versetti focalizzati su quello che è il ruolo del marito dal 25 al 33 questo dimostra quanto è fondamentale per il matrimonio questo ruolo del marito versetti focalizzati sul ruolo il compito del marito per quanto riguarda il rapporto matrimoniale molti più versetti e questo dimostra l'importanza di questo ruolo possiamo riassumere questi versetti dal 25 al 33 in questo modo l'amore incondizionato del marito per la moglie di questo parleremo l'amore incondizionato del marito per la moglie questo è il ruolo del marito la sua responsabilità nei confronti della moglie il marito è capo della moglie a quel punto i non credenti o anche qualche credente immaturo subito e prontamente afferma ah quindi lui è superiore domina sulla moglie perché capo no perché qui Paolo ora specifica in che modo il marito esercita quella sua autorità come? amando in modo incondizionato ecco in che senso capo della moglie il marito è chiamato a guidare la moglie con un amore che è incondizionato non c'è maschilismo non c'è un dittatore in famiglia questo è il mondo non è il cristianesimo in questo modo guida a sua moglie attraverso questo amore incondizionato di questo parleremo in questi versetti ci sono tre aspetti che considereremo insieme riguardo a questo amore incondizionato del marito per la moglie il primo aspetto è questo la responsabilità dell'amore per la moglie la responsabilità dell'amore per la moglie versetto 25 la prima frase mariti amate le vostre mogli vedremo che qui qui c'è un'esortazione ad amare la moglie è un imperativo una responsabilità poi parleremo dell'essenza l'essenza dell'amore per la moglie dal 25 al 27 l'essenza dell'amore per la moglie ovvero a cosa corrisponde questo amore e di quale amore sta parlando l'apostolo Paolo l'amore di Cristo l'amore di Cristo questo è l'amore che deve caratterizzare il marito nel suo rapporto con la moglie e poi parleremo di un terzo aspetto la manifestazione dell'amore per la moglie la manifestazione dell'amore per la moglie in che modo si manifesta qual è la testimonianza concreta di un reale amore per la moglie dal versetto 28 al 33 questa sera ci soffermiamo sui primi due aspetti i primi due e poi proseguiremo la prossima volta parlando del terzo aspetto iniziamo con il primo di questi due la responsabilità dell'amore per la moglie la responsabilità dell'amore per la moglie Paolo inizia in questo modo mariti amate le vostre mogli e qui ci fermiamo per un attimo mariti amate le vostre mogli inizia parlando di amore ed esortando all'amore ma come vedremo parla di amore ed esorta ad amare anche al versetto 28 allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona chi ama sua moglie ama se stesso versetto 33 ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito questo paragrafo interamente focalizzato sull'amore del marito per la moglie quando si parla del ruolo del marito si parla di un amore incondizionato per la moglie ecco in che senso è capo della moglie ecco in che modo guida la moglie amando amando in modo incondizionato ora qui esorta dicendo amate le vostre moglie questo è un imperativo è un'esortazione è un comandamento e osservando tra l'altro il verbo greco è un'esortazione ad una realtà continua qui esorta ad amare continuamente qui parla di uno stile di vita come marito non è un amore occasionale in qualche circostanza a motivo di quello che sta accadendo questo è un continuo amore per la moglie Paolo ha già parlato di amore al versetto 5 al versetto capitolo 5 nei primi due versetti siate dunque imitatore di Dio perché siete figli da Lui amati e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati ha dato se stesso per noi il sacrificio in offerta il sacrificio Dio quale profumo di odore soale ha parlato di amore amore per il prossimo così come Cristo ci amati qui esorta invece i mariti questo è un amore unico specifico che riguarda il rapporto matrimoniale un amore specifico per la propria moglie ora questa esortazione ad amare rivela che l'amore di cui sta parlando l'apostolo Paolo non si riferisce ad un sentimento ad un'emozione semplicemente perché sta esortando è un imperativo non è un'emozione che abbiamo a motivo di una circostanza particolare questa è un'esortazione ad amare implica un atto di volontà è un amore indipendente dall'atteggiamento della moglie questa amore non è una risposta emotiva ma è un atto di volontà in obbedienza al Signore ora include certo l'affetto il sentimento ma primariamente un atto di volontà qui sta parlando della responsabilità del marito di amare la propria moglie quest'amore è costante indipendentemente da quello che accade un amore incondizionato ora questa esortazione ad amare è inconcepibile secondo l'idea di amore di questo mondo inconcepibile perché qui esorta ad amare quante volte sentiamo non credenti purtroppo anche credenti dire non amo più mia moglie non sento più nulla per lei non sento quello non è amore qui sta esortando ad amare non a sentire non a aspettare che sentiamo qualcosa dentro di noi no falso quello è un amore egoistico passeggero distruttivo che non vale nulla questo amore invece è frutto di una volontà del desiderio di cercare il bene della moglie costantemente include certo l'affetto il sentimento ma è un atto di volontà questa decisione costante un nuovo stile di vita e capiremo in cosa consiste quest'amore qual è l'essenza di quest'amore nei prossimi versetti fra un attimo Paolo ha descritto il marito come capo della moglie non esorta il marito adesso a dominare sulla moglie a regnare sulla moglie ma ad amarla sempre costantemente in modo incondizionato questo è un imperativo non potrà esserci una guida fedele nel matrimonio se non c'è la volontà di amare non potrà esserci una guida fedele non potrà esserci un sano matrimonio se non c'è la volontà la determinazione in obbedienza al Signore se non c'è questo impegno in qualsiasi circostanza un amore senza fine infatti il marito si unisce alla moglie e diventano una sola carne in che modo è possibile essere una sola carne quando c'è un amore incondizionato il matrimonio è una relazione indissolubile perché c'è un amore incondizionato che non finisce non è l'amore di questo mondo di cui si parla costantemente e che caratterizza purtroppo anche credenti che a un certo punto dicono non sento più nulla per mia moglie o per mio marito la moglie abbiamo visto esortata a sottomettersi al marito e qui capiamo che viene esortata a sottomettersi a questo amore quale moglie non vuole sottomettersi a questo amore incondizionato la moglie è chiamata a lasciarsi guidare mediante questo amore incondizionato l'amore del marito per la moglie è una costante responsabilità e richiede quindi un costante impegno una costante volontà ora quando accadrà ciò però in che modo un marito decide desidera costantemente di amare in modo incondizionato in qualsiasi circostanza questa è la risposta quando c'è una fedele vita di chiesa Efesini 4 questo cammino nell'unità di cui ha parlato l'aposto quando si fa parte di una chiesa in cui si cresce si matura in Cristo e a quel punto si è motivato ad amare fedelmente oppure quando si cammina in santità dal versetto 17 fino al 32 come può un marito amare la moglie in modo incondizionato se non cammina in santità se non rinuncia a se stesso se non confessa i suoi peccati se non fa attenzione a come parla se non si esamina costantemente oppure se non cammina nell'amore capitolo 5 primi 6 versetti amando come Cristo amato noi o se non cammina nella luce se non si comporta come figlio di luce come potrà essere un marito fedele che ama costantemente oppure se non cammina nella saggezza è imparato di questo esaminando se stesso desiderando di comprendere qual è la volontà del Signore e di vivere sotto la guida dello Spirito Santo è solo così che ci sarà un marito che desidera amare costantemente alla moglie un amore che è motivato dall'obbedienza al Signore ed è frutto di un cammino spirituale di cui ha parlato prima quante volte si parla di matrimonio e si vuole estruire sul matrimonio senza estruire riguardo al cammino spirituale ma come potrà amare costantemente determinato se non vive sottomesso a Cristo se non cresce spiritualmente se non confesse i suoi peccati se non c'è un cammino sapete cosa farà un marito si giustificherà di fronte alla mancanza della moglie si giustifica dicendo come posso amare mia moglie come si comporta d'altrude anziché esaminare se stesso e camminare in Cristo ecco la responsabilità del marito di amare la moglie questo amore è frutto di un atto di volontà il desiderio di amare costantemente la moglie ma in cosa consiste questo amore di quale amore sta parlando l'apostolo Paolo di questo ora parleremo l'essenza dell'amore per la moglie Paolo vedremo non parla di un'emozione di un sentimento di qualcosa che sentiamo ma l'amore di cui parla è qualcos'altro e di questo ora parliamo dal versetto 25 al 27 l'essenza dell'amore per la moglie dopo aver esortato i mariti ad amare le mogli le loro mogli ora ci mostra Paolo come perché giunge come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei Paolo è specifico dopo aver evidenziato la responsabilità di amare la propria moglie ora istruisce sul come amare la propria moglie come e la risposta è chiara come anche Cristo ha amato la Chiesa l'amore di Cristo per la Chiesa è il modello di amore che il marito deve avere per la moglie la stessa cosa Paolo ha detto tra l'altro al capitolo 5 sempre i primi due versetti quando è esortato a camminare nell'amore come anche Cristo vi amati come amare il prossimo come Cristo ci amati così anche nel matrimonio come amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa lo stesso amore l'amore di Cristo il quale dice Paolo ha dato se stesso per lei qui specifica in cosa consiste questo amore Cristo ha dato se stesso per lei Cristo per sua iniziativa nella sua volontà ha dato se stesso come sacrificio sostitutivo per la salvezza della Chiesa Efesini 5 versetto 2 come anche Cristo vi amati ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave questo è l'amore di Cristo ha dato se stesso come sacrificio sostitutivo per la redenzione della Chiesa Gesù parla di ciò lui personalmente in Giovanni Giovanni capitolo 10 questo brano qui si parla del buon pastore Gesù il buon pastore Giovanni 10 versetto 11 io sono il buon pastore il buon pastore dà la sua vita per le pecore versetto 15 come il padre mi conosce io conosco il padre e do la mia vita per le pecore versetto 17 18 per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per riprenderla poi nessuno me la toglie ma io la depongo da me ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla quest'ordine ho ricevuto dal padre mio Cristo ha dato se stesso volontariamente ha dato la sua vita è morto per la salvezza della Chiesa questo è l'amore incondizionato di Cristo Cristo non ha amato la Chiesa perché era amabile no Cristo ha dato se stesso alla Chiesa quando non era amabile Cristo è morto per noi mentre eravamo ancora peccatori Romani 5 8 immeritevoli Cristo ha dato se stesso per peccatori immeritevoli corrotti per gli empi questo è l'amore di Cristo in questa lettera di Paolo agli Efesini abbiamo compreso questo amore per esempio nel primo capitolo dal versetto 3 al versetto 14 quando parla di queste benedizioni spirituali elargite ai credenti in Cristo eletti scelti in Cristo da Dio prima della creazione del mondo perché fossimo santi riprensibili dinanzi a Lui avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli secondo il disegno benevolo della Sua volontà all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel suo mato Figlio in Lui in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia Cristo ha dato a Se stesso per la nostra salvezza per il perdono dei peccati questo era il piano di Dio prima ancora che esistessimo non in vista della nostra fede non per la nostra predisposizione non è quello l'amore di Cristo l'amore di Cristo è per coloro che non erano amabili coloro che erano peccatori empi Romani 5 e sempre in questa lettera di Paolo agli Efesini capitolo 2 versetto 13 ma ora in Cristo Gesù voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo noi lontani senza Dio senza speranza dice nei versetti precedenti ma avvicinati non grazie a noi ma al sangue di Cristo questo suo amore è incondizionato per la Chiesa è capitolo 3 quando prega per gli Efesini per comprendere quest'amore è il versetto versetto 16 affinché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio l'amore di Cristo prega affinché possano comprendere la profondità di questo amore perché perché non è l'amore di questo mondo condizionato ma è l'amore incondizionato verso peccatori meritevoli Cristo ha dato se stesso per la Chiesa Paolo esorta i mariti ad amare le loro mogli come Cristo ha amato la Chiesa ora noi non possiamo salvare le nostre mogli ma l'esempio di Cristo è questo il marito ama la moglie e manifesta ciò come dando se stesso alla moglie mettendo da parte se stesso i suoi interessi per l'amore della moglie cercando il bene della moglie da se stesso ora nella lettera di Paolo ai Filippesi capitolo 2 in questo contesto parla della relazione della Chiesa tra i credenti capitolo 2 versetto 3 non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria ma ciascuno con imiltà stimi gli altri superiori a se stesso cercando ciascuno non i propri interessi ma anche quello degli altri abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù ecco lui l'esempio la sua incarnazione la sua crocifissione l'esempio di questa umiltà di cercare l'interesse del prossimo quanto più nel rapporto matrimoniale il marito da se stesso cercando il bene della moglie affinché ci sia questa sola carne è fondamentale questo amore al centro della relazione matrimoniale non ci sono aspetti fisici unicamente o emotivi ma primariamente la volontà di dare se stessi alla moglie sempre incondizionatamente in qualsiasi circostanza disposti a sacrificare se stessi a mettere da parte i propri interessi per il bene della moglie disposti a tutto per il suo bene questo è quello che Cristo ha fatto per la Chiesa e il marito è chiamato a seguire il suo esempio Cristo ha dato se stesso per dei pecatori meritevoli e ora il marito dà a se stesso la moglie si sacrifica per il suo bene fratelli cari gli aspetti sentimentali fisici che sono importanti devono essere preceduti da questo amore incondizionato da questa volontà e determinazione se non c'è questa volontà di amare e questo amore incondizionato ma solamente la ricerca dell'affetto degli aspetti emotivi nel momento in cui questi mancheranno si cercheranno altrove perché la priorità è l'amore incondizionato prima di qualsiasi altra cosa se non c'è quest'amore ma c'è l'aspetto fisico le emozioni l'affetto nel momento in cui questo non c'è si cercherà altrove è una porta aperta alle tentazioni per il marito e per la moglie primariamente deve esserci quest'amore incondizionato e poi certamente all'affetto e poi certamente gli aspetti fisici come la scrittura rivela il Vangelo deve essere al centro della relazione matrimoniale l'amore di Cristo non un amore egoistico ma la volontà di dare se stessi allora per quale scopo Cristo ha dato se stesso alla Chiesa perché Paolo prosegue evidenziando lo scopo di questo amore incondizionato per la Chiesa al versetto 26 e 27 parla di ciò molto importante ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei e aggiunge lo scopo per santificarla letteralmente per santificarla purificandola con il lavaggio dell'acqua mediante la parola per santificarla purificandola con il lavaggio dell'acqua mediante la parola Cristo ha amato la Chiesa ha dato se stesso per la Chiesa per quale obiettivo santificarla non ha amato la Chiesa perché era santa no per santificarla Cristo ha dato se stesso per la Chiesa per santificarla qui si riferisce alla santificazione posizionale non al cammino di santificazione alla santificazione posizionale ovvero Cristo ha dato se stesso per santificarla la Chiesa per metterla a parte per Dio per consacrarla a Dio Cristo ha dato se stesso mediante questo amore incondizionato e la Chiesa ora è santa davanti a Dio e in che modo è santa davanti a Dio dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola Cristo ha dato se stesso per santificarla per consacrarla a Dio per metterla a parte per Dio e questa santificazione purificazione è possibile grazie all'acqua della parola ovvero l'opera salvifica mediante il Vangelo di Cristo Gesù Cristo da se stesso consacra la Chiesa e la salvezza è grazie al Vangelo alla parola che purifica la Chiesa che è santa davanti a Dio ma tutto ciò come risultato di quest'amore incondizionato Cristo ha amato con questo obiettivo santificarla a Chiesa consacrarla a Dio metterla a parte per Dio ed è stata purificata mediante la parola Giovanni 15 3 la purezza attraverso la sua parola la salvezza mediante il Vangelo come conosciamo attraverso altri brani della scrittura la Chiesa come risultato dell'amore di Cristo incondizionato è santa davanti a Dio ed è purificata dal peccato questa salvezza è in virtù dell'opera di Cristo ma questa salvezza beneficiata per grazia mediante l'opera della parola e grazie a Cristo la sua parola che la Chiesa è santa questo era l'obiettivo del suo amore la salvezza della Chiesa la sua santificazione consacrarla al Padre ora il marito non può salvare la moglie ma il marito deve seguire l'esempio di Cristo amando in modo incondizionato con un obiettivo fratelli cari quello è l'obiettivo del suo amore essere uno strumento per la crescita spirituale della moglie per la sua santificazione per la sua integrità amare con questo obiettivo spirituale Cristo è amato per salvare e santificare la Chiesa purificandola mediante la parola e il marito ama la moglie con il desiderio di farla crescere mediante la parola e si occupa e si preoccupa di lei spiritualmente prima di ogni cosa amare la propria moglie significa preoccuparsi per il suo benessere spirituale per il suo cammino cristiano la volontà di dare se stessi con questo scopo e obiettivo Paolo prosegue parlando dell'obiettivo dell'amore di Cristo dopo aver detto per santificarla mediante la purificazione attraverso la parola e il Vangelo quello è lo scopo di questa santificazione dice questo per farla comparire davanti a sé gloriosa Cristo ha dato se stesso ha amato in modo incondizionato la Chiesa la consacrata a Dio e la salvata mediante il Vangelo lo scopo è questo farla comparire davanti a sé davanti a se stesso gloriosa questo suo obiettivo gloriosa ovvero senza macchia aggiunge senza impurità senza rughe senza imperfezioni o simili cose presentare la Chiesa a sé stesso senza imperfezioni a causa del peccato una completa purezza nulla di peccaminoso qui si riferisce alla futura glorificazione ha santificato la Chiesa consacrata a Dio l'ha salvata mediante del Vangelo e lo scopo è farla comparire in futuro davanti a sé gloriosa la piena redenzione di cui ha parlato Paolo al capitolo 1 versetto 14 gloriosa e aggiunge senza macchia senza ruga o altri simili difetti ma santa e irreprensibile ma santa e irreprensibile non solo senza imperfezioni ma santa e irreprensibile ovvero perfetta in Cristo perfetta in Cristo questo è quello che Paolo scrive in questi versetti come frutto della grazia di Dio e dell'opera di Cristo del suo amore incondizionato la Chiesa è santa dal punto di vista posizionale consacrata a Dio santa su questa terra cresce spiritualmente nel suo cammino di santificazione e in futuro con certezza verrà presentata gloriosa senza imperfezione davanti a Cristo qui sta parlando di questa opera salvifica dall'inizio alla fine la certezza di questa opera salvifica fino a questa glorificazione come risultato di questo suo amore incondizionato l'obiettivo dell'amore di Cristo è la salvezza di peccatori meritevoli rendere amabile ciò che non era amabile rendere presentabile davanti a Dio ciò che era impresentabile sotto il suo giudizio questa era la Chiesa i non credenti erano sotto il giudizio di Dio immeritevoli empi morti nei peccati ciechi ma Cristo ha amato dando se stesso alla Chiesa in modo incondizionato questo è l'amore che deve caratterizzare i mariti per le mogli lo stesso amore incondizionato desiderare la purezza e la santità della moglie l'interesse e l'obiettivo di questo amore è la vita spirituale della moglie questo desidera il marito primariamente parleremo la prossima volta anche di un terzo aspetto alla manifestazione dell'amore per la moglie dal versetto 28 al 33 aspetti pratici che evidenziano in che modo si manifesta questo amore per la moglie abbiamo considerato questa sera il ruolo del marito l'amore incondizionato del marito per la moglie questo ruolo che Dio ha stabilito per ciascun marito in questi versetti Paolo istruisce i mariti evidenziando come devono comportarsi come devono vivere come mariti affinché ci sia una relazione matrimoniale sana fedele amando in modo incondizionato la propria moglie abbiamo visto prima cosa la responsabilità di amare qui dice amate le vostre mogli non è un sentimento un'emozione quando si parla di amore oggi ci si riferisce a questo amore che è falso è temporaneo è passeggero è distruttivo non sento più questo amore per mia moglie non è quello l'amore l'amore in questi versetti si riferisce a questo atto di volontà una costante responsabilità del marito un atto volontario un'obbedienza al Signore è un amore indipendentemente da quello che è l'atteggiamento della moglie non potrà mai esserci qualcuno che si giustifica perché viene esortato d'amore è un comandamento è una responsabilità costante è uno stile di vita ribadisco non è un sentimento che dipende dalle circostanze della vita e poi l'essenza dell'amore in che modo amare come Cristo ha amato la Chiesa l'amore di Cristo per la Chiesa è l'esempio dell'amore che deve contraddistinguere ai mariti disposti a dare se stessi disposti a qualsiasi cosa per il bene della moglie con un obiettivo specifico oggi nel mondo l'amore non ha un obiettivo perché l'amore è egoistico e se c'è un obiettivo è il proprio interesse amare fino a quando mi conviene o quando mi conviene ma l'amore del marito per la moglie lo stesso amore di Cristo per la Chiesa con un obiettivo specifico l'obiettivo è quello di un cammino spirituale della moglie desiderare la sua santità la sua purezza la sua integrità preoccuparsi di questo non semplicemente di cose materiali e basta o la ricerca di cose secondarie ma ricercare un cammino spirituale questa deve essere la preoccupazione costante del marito darsi pensiero primariamente dei suoi bisogni spirituali poi vedremo di altri bisogni importanti ma primariamente dei suoi bisogni spirituali questo è un aspetto primario mediante la parola che il marito potrà guidare la moglie ma deve esserci questa volontà deve esserci questa determinazione vivere con questo obiettivo la crescita spirituale della moglie se ci sono altre priorità non potrà esserci una sana relazione matrimoniale anche tra credenti ci sarà semplicemente una convivenza ognuno vive la sua vita i suoi pensieri le sue idee separandosi anche in casa il marito deve preoccuparsi del benessere spirituale della moglie ma fratelli cari il marito si preoccuperà della moglie spiritualmente solo quando lui stesso si preoccuperà del proprio cammino spirituale come può preoccuparsi della moglie della sua vita cristiana se non si preoccupa del suo cammino se non c'è una vita cristiana fedele ecco perché ha parlato di ciò per molti versetti dal capitolo 4 in poi non possiamo parlare di matrimonio se non parliamo di vita spirituale di vita cristiana perché solo quando il marito vive una vita cristiana fedele che desidera preoccuparsi della moglie e mettersi al servizio per la moglie così come la moglie si sottometterà al marito nel momento in cui si sottomette al Signore è la stessa cosa il cammino spirituale è determinante affinché ci sia una relazione matrimoniale sana appagante gioiosa che glorifica Dio non una sopravvivenza ricordiamoci l'obiettivo del matrimonio è glorificare Dio e testimoniare del Vangelo di Cristo lo vedremo al versetto 32 e 33 questo mistero è grande dico questo riguardo a Cristo e la Chiesa ma d'altronde anche fra voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso altresì la moglie rispetti il marito Paolo mette in relazione il rapporto matrimoniale con quello che è il rapporto tra Cristo la Chiesa attraverso un rapporto matrimoniale fedele che possiamo testimoniare del Vangelo di Cristo ma solo quando come mariti amiamo come Cristo amato noi come Cristo amato la Chiesa questa è la parola di Dio fratelli siamo certamente mancanti chiamati a confessare le nostre mancanze e ad impegnarci perché Paolo ci esorva ci istruisce ed è solo così che ci sarà una relazione matrimoniale che sarà una vera benedizione che glorificherà Dio testimonianza potente del Vangelo di Cristo di Gesù di Gesù Grazie a tutti.